Ciao a tutti, io sono Filippo Giannini di Trading Facile e ti do il benvenuto a questo nuovo video per la consueta video analisi settimanale sui principali mercati e per andare a valutare le strategie dei nostri trading system. Oggi è martedì 12 luglio 2022, il focus di oggi è su SP500. Prima di iniziare al solito un veloce sguardo al nostro sito www.tradingfacile.eu dove trovate tutte le statistiche inerenti ai nostri sistemi di trading oltre al blog che aggiorniamo quotidianamente con tutte le ultime news di mercato. Mi raccomando non dimenticare di iscriverti al nostro canale YouTube quindi mettere un like alla fine del video se ti è piaciuto e iscriverti al canale attivando le notifiche per ricevere appunto un alert ogni qualvolta verrà pubblicato un nuovo contenuto. Ricordo anche di iscriverti e di seguirci alla nostra pagina Facebook e al nostro canale Telegram. Bene, come detto tema di oggi SP500 cerchiamo un attimino di fare il punto della situazione sul benchmark dell'equity americana ieri scrivevo sul sito appunto su uno dei nostri articoli di andare a monitorare quella che sarebbe stata appunto la chiusura su livelli vicini a quelli che il mercato sta battendo nella giornata odierna perché? Perché il mercato sembra nuovamente essere alle prese con una nuova correzione. L'SP500 sta stazionando su livelli delicati perché? Perché se da un lato è vero che il mercato ha fatto questo triplo minimo e quindi ha mostrato una base di accumulo in area 3.750 punti e quindi la volontà appunto di difendere con un modello a triplo minimo che comunque ha sempre una certa valenza statistica in analisi tecnica è pur vero che lato long siamo ancora in attesa di conferme e quindi la situazione è comunque al momento ancora incerta perché? Perché il mercato ieri era arrivato a scambiare a quota 3.900 punti e quindi era arrivato a testare la parte alta di questo precedente modello ribassista ovvero questo modello, questo pattern a tre candele Evening Star completato il 24 giugno scorso e che quindi ancora è quello che comanda le file del mercato. Seconda ragione è quella appunto anche dettata dal fatto che il mercato sta ancora scambiando all'interno di questo canale ribassista lo vedete qui dove appunto il mercato ha fatto dei minimi decrescenti dei massimi chiedo scusa decrescenti e quindi aggiornando continuamente appunto i minimi e quindi fino a che il mercato non uscirà appunto non romperà al rialzo questa trend line non avremo un vero e proprio appunto segnale di ripresa perché appunto il mercato romperebbe appunto questa serie di massimi decrescenti e andrebbe anche a invalidare questo precedente modello ribassista di tipo Evening Star quindi al momento purtroppo non possiamo ancora scongiurare l'ipotesi che il mercato vada a correggere ulteriormente anche se ripeto c'è ancora questa base di accumulo che secondo me diciamo tiene a galla il mercato nel breve però diciamo ecco personalmente andando insomma ecco focalizzandoci sull'aspetto operativo qui siamo sul time frame a 5 minuti sarei maggiormente propenso a prendere eventuali nuovi segnali ribassisti lato operativo piuttosto che appunto in acquisto perché? Perché in acquisto nonostante appunto questo triplo minimo è molto rischioso andare a rialzi in questo momento a meno che il mercato non faccia una mossa e quindi vado a testare insomma i 4.000 punti dando evidenza appunto di un segnale rialzista così forte viceversa ritengo invece che se il mercato pur non andando ad invalidare questo modello a triplo minimo ma già il fatto che si possa assistere ad una chiusura inferiore a quota 3.830 punti e quindi tanto per capirci sui minimi del 7 luglio scorso questo secondo me sarebbe già da intendere come nuovo segnale di debolezza e quindi questo secondo me potrebbe scatenare diciamo ecco nuove vendite e portare il mercato al ritest di questo famoso triplo minimo che tra l'altro triplo minimo è anche posizionato sulla linea centrale di questo canale ribassista questo per dire che cosa che la mossa potrebbe secondo me essere propedeutica questo test ad una più ampia correzione qualora chiaramente il mercato andando a testare nuovamente questo supporto a 3.750 punti di fatto non vada a incontrare nuove difese quindi insomma ecco le possibilità che poi il mercato secondo me possa andare a correggere e rompere al ribasso questo triplo minimo sono più che concrete anche a fronte di quello che è stato il movimento fatto dal mercato nel corso appunto della precedente successione di minimi e massimi di swing ovvero lo vedete qui qui la soglia era quella dei 4.135 punti qui il mercato fa una candela ribassista ad ampio range abbiamo poi questi nuovi minimi e sul pullback appunto sui precedenti livelli di break vedete che anche qui parte alta del canale il mercato rompe questa impasse quindi rompendo al rialzo in questo caso quota 4.060 punti candela anche qui ribassista ad ampio range e giù a fare nuovi minimi per testare appunto la parte bassa del canale qui il discorso potrebbe essere analogo nel senso che qui il nostro quello che diciamo nella precedente occasione erano i nostri 4.060 punti qui ora abbiamo i 3.745 circa comunque al di sotto di questo triplo minimo quindi se in corrispondenza poi di questo test dovessimo osservare una nuova candela ribassista ad ampio range a quel punto dovremmo secondo me aspettarci una nuova mossa a ribasso che vada a testare anche in questo caso la parte bassa quindi la base di questo canale ribassista e qui si va secondo me dritti a quota 3.500 punti dove tra l'altro troviamo anche confluenza oltre appunto ai livelli di supporto di tipo dinamico ma troviamo anche una resistenza di tipo chiaro scusa un supporto di tipo statico perché vede qui avevamo il tetto di questo modello quindi 3.500 punti coincide con il livello di completamento di questo modello a doppio minimo decrescente che poi nel corso del novembre 2020 aveva dato il là all'up trend appunto che aveva caratterizzato il mercato nel corso poi del 2021 quindi occhio perché sarà importante monitorare la chiusura odierna quindi dall'ottava di oggi dalla sessione di oggi secondo me avremo indicazioni per quello che sarà il proseguo della settimana se il mercato dovesse riuscire a recuperare dai livelli attuali e quindi chiudere lontano dai minimi odierni e quindi recuperare quota 3.850 punti a quel punto secondo me sussistono ancora le condizioni per vedere un recupero nel proseguo dell'ottava ma se oggi dovessimo assistere ad una chiusura al di sotto dei livelli che il mercato sta battendo attualmente ovvero sotto quota 3.830 aspettiamoci un test in prima battuta dei 3.750 3.745 chiedo scusa e se poi tale test dovesse avere esito negativo aspettiamoci una correzione di più ampio respiro bene andiamo adesso a commentare alcune operazioni svolte nella giornata di ieri dai nostri trading system partiamo da un'operazione aperta nella giornata di ieri uno short aperto su sp500 a quota 3.873 punti ma rivediamolo anche qui con l'aiuto del grafico eccolo qua quindi short aperto a quota 3.873 eccolo qui quindi sulla debolezza appunto del mercato in apertura di sessione e poi lo short è stato chiuso appunto durante la sessione asiatica questa notte alle 2.49 a quota 3.843 punti quindi circa 30 punti di gain seconda operazione questa invece aperta e chiusa in intraday nella giornata di ieri qui altro short partito in questo caso da quota 3.892 quindi il mercato che rompe appunto questi minimi fatti ad inizio sessione in questo caso l'uscita è un'uscita di tipo intraday alle ore 19.31 3.878 quindi sostanzialmente su questo rimbalzino chiamiamolo così intraday il sistema ha preso profitto chiudendo appunto a quota 3.878 punti bene siamo in chiusura io vi ricordo che tutta l'operatività dei nostri trading system la trovate su www.tradingfacile.eu per qualsiasi informazione ci potete poi scrivere a info-tradingfacile.net anche per oggi è tutto un caro saluto da Filippo Giannini e buon trading a tutti